Il sindaco di Altavilla Milicia, Nino Parisi, traccia un primo bilancio della sua attività nell'amministrazione comunale e rivolge un augurio ai suoi concittadini. Per quanto riguarda il giudizio sull'attuale amministrazione su questo semestre, ritengo che lo debbano dare i cittadini e spero che siano contenti del nostro operato. Noi ci abbiamo messo il cuore, ci abbiamo messo l'anima per fare di tutto e di più. Siamo riusciti a fare tante cose. Abbiamo in qualche maniera ristabilito il decoro urbano ormai che era andato perduto. Abbiamo dato una svolta a quello che era il servizio della raccolta dei rifiuti di salute urbani. Abbiamo stabilizzato alcune tasse ed altre abbiamo addirittura diminuite rispetto ai provvedimenti fatti dal commissario straordinario. Abbiamo pensato per il personale precario, per la sua stabilizzazione. È stato approvato il piano particolarizzato del centro storico e in fase di approvazione il piano di utilizzo del demanio marittimo. Tutta una serie di iniziative che hanno in qualche maniera concesso la possibilità a molte persone di poter adoperarsi e lavorare per il Paese e nello stesso tempo risparmiare sulle spese. L'obiettivo era quello di contenere le spese, visto che le restrizioni e il patto di stabilità ci obbligano a contenerle, viceversa il Comune va in default e noi non possiamo permettere questo. Molti altri ci stanno andando, ma non per demerito dei loro amministratori, semplicemente perché la legge è veramente restrittiva e costringe i sindaci a fare da riscossori delle tasse rispetto a quello che faceva prima lo Stato e la Regione. Ci tocca questo compito, ce lo carichiamo anche questo addosso, è un momento difficile, però ritengo che l'amministrazione in questo sei mesi ha fatto molto di più di quello che doveva e spero di continuare su questo passo. Per il futuro uno cosa può dire? Può semplicemente promettere il massimo impegno. Non abbiamo grossi margini di movimento, però noi riusciamo ad avere dei funzionari, per fortuna, che sono all'altezza del loro ruolo, a fare delle proposte che tendono sempre al miglioramento del nostro Paese. Quello che dovremmo cercare di fare maggiormente è quello dello sviluppo della zona esterna e soprattutto quello, purtroppo, di cercare di attivare qualche possibilità di lavoro per la gente, che Altavilla, come tutti i Paesi, d'altra parte sta soffrendo questa crisi economica e ci sono nuove povertà, nuove fragilità che emergono. Effettivamente è una cosa che mi amareggia tantissimo, soprattutto in questo periodo di feste, vedere la gente triste perché non può far fronte ai bisogni necessari di una famiglia. Il Consiglio Comunale è compatto, l'amministrazione è compatta, ci sono addirittura dei consiglieri di minoranza che hanno lasciato il loro gruppo d'origine non per collaborare con l'amministrazione ma per fare una posizione propositiva, considerato che dai banchi della minoranza, finora sono volte semplicemente polemiche, illazioni, però di fatto nessuna proposta, tranne quella di questi due consiglieri che si sono distaccati dalla minoranza, che hanno creato un gruppo autonomo e che stanno facendo delle buone proposte. Quindi io mi auguro che l'amministrazione tutta nella sua totalità, compreso quelle di minoranze che attualmente hanno avuto solo un atteggiamento critico non costruttivo, possono fare delle proposte. Da dovunque queste vengano, queste saranno accolte se sono nell'interesse della collettività. Io auguro ai miei cittadini un buon Natale e un felicissimo anno nuovo. Io auguro semplicemente che si esca da questa situazione che sicuramente è un delitto nei confronti della società, quello di questa crisi economica, che la cittadinanza possa ritornare a risplendere, i cittadini possano avere quel sorriso che adesso gli manca. Il comune di Altavilla Milici ha reso noti gli appuntamenti per le prossime festività natalizie. Il 25 dicembre alle 16 al Belvedere partenza del trenino di Babbo Natale per le vie cittadine e distribuzione di caramelle. Il 26 alle 10 nuovo giro del trenino di Babbo Natale alle 15 zampognari per le vie cittadine. Dalle 16 la banda musicale di Termini Imerese sarà in giro per le vie di Altavilla. Dalle 16 alle 20 e 30 presepe vivente e degustazione di prodotti tipici locali a cura del comitato dei voti a San Giuseppe. Il 28 dicembre alle 19 pianoforte e voci per il concerto di canti sacri e popolari a Natale al santuario Madonna della Milicia. Il 29 alle 5 di pomeriggio melodie natalizie per le vie cittadine con distribuzione di dolciumi. Il primo gennaio capodanno dalle 16 e 30 alle 20 e 30 ancora presepe vivente degustazione di prodotti locali. Infine il giorno della Befana 6 gennaio dalle 4 e mezza del pomeriggio zampognari per le vie di Altavilla e ancora presepe vivente. Grazie.